Buongiorno compagni di via, questo è il quindicesimo video del laboratorio umano del Purna Yoga in cui esploriamo l'epistolario di Sat Prem, Far nascere Dio, lettere di un insubordinato. In una lettera dell'11 settembre 1960 all'amica Clarie, con cui c'è molta burrasca in questo periodo, perché lei non riesce a comprendere il percorso di Sat Prem ed esprime anche dei forti giudizi su di lui, Sat Prem, dice amica, hai tutto il diritto di insultarmi, di farmi gli sberleffi e di dirmi che sono uno screanzato, ma non di arrabbiarti sul serio con me per la mia ultima lettera, intanto perché ti voglio bene. Sono brutale e piuttosto rozzo, è vero, ma siccome avevo sentito che non erano tutte rose e fiori dalle tue parti, mi ero detto che ci sarebbe stato bene un po' di scandalo, semplicemente per provocare in te una reazione profonda. Se non ti volessi bene, mi sarebbe del tutto indifferente che tu diventi una signora qualsiasi, domiciliata in boulevard vattela pesca. Ecco quanto. Clarissi rifugia spesso in nuovi amori in cui cerca la soluzione e Sat Prem nel suo modo diretto a volte le fa notare che così sta girando intorno, anche nella sua ricerca interiore, si ferma soltanto alla esteriorità, non va mai realmente in profondità, non comprende che la vera responsabilità di tutto è all'interno di sé e non sono gli eventi. Clarino, nonostante tutto, certe cose le vedo, cose stupendamente nuove che sono lì a disposizione degli uomini e vedo che stiamo arrivando ad una svolta straordinaria del destino umano. vedo che noi possiamo, se lo vogliamo, costruire in noi un'umanità diversa, più vera, più vasta, più bella, più capace di amare. Non una quintessenza di quel che eravamo, ma qualcosa di assolutamente nuovo. Sì che a volte mi rattristo e perdo la pazienza sentendo che nessuno risponde, che nessuno ascolta. Sat Prem comincia realmente, lui sì, ad andare in profondità e ancora più diventa stridente la superficialità di chi vorrebbe fare un percorso spirituale senza andare veramente al fondo, al fondo di sé stesso. Io so, dice Sat Prem, che il nuovo è a disposizione di chiunque sia un po' sincero e un po' stanco della vecchia solfa. Eh sì, la sincerità è la qualità più importante nella ricerca spirituale e anche la capacità di abbandonare i vecchi schemi perché anche la spiritualità può essere legata a vecchi schemi sentimentalistici a volte e quindi intrappolati dall'ego in maniera più subdola e sottile. Qua c'è una lettera a Bernard Doncier in cui fa un riferimento alla sua disciplina tantrica e dice la mia disciplina tantrica adesso mi prende circa sette ore al giorno. Ti rendi conto? Beh, Sat Prem quando decide di percorrere una via non si risparmia minimamente anche se poi si renderà conto che sempre di più c'è dell'altro perché anche il suo maestro tantrico lo tradisce. Dice in una lettera a Clarie del 7 ottobre in fondo il grosso del lavoro non consiste nell'imparare cose nuove ma nel disimparare togliere i veli dell'ego l'imparare è il condizionamento noi abbiamo già imparato in maniera distorta ma attraverso tutte le suggestioni apprese fin dall'infanzia dalla nostra famiglia dai messaggi sociali dalle ideologie e questo imparare è qualcosa di appiccicato addosso che condiziona la nostra capacità di vedere liberamente dobbiamo disimparare no e no io non sono un pezzo raro sull'esotico mistico sono al 100% umano satpreme rivendica la sua umanità perché anche nella spiritualità c'è l'equivoco che coloro che seguono una disciplina magari in maniera veramente totale siano quasi dei superuomini non è vero anzi è proprio l'incontro con la nostra umanità quella che consente il viaggio verso l'anima sto conoscendo un mucchio di segreti favolosi dice satpreme e so di non poterli comunicare a nessuno del resto non servirebbe a niente ognuno deve tentare da sé mettendosi in cammino e voltando le spalle una buona volta alle proprie storie piccine non si può camminare al posto di un altro anche a sbattere dei miracoli sotto il naso della gente nessuno ci crederebbe l'esperienza spirituale è esclusivamente personale anche se volta al servizio dell'umanità quindi personale non vuol dire solipsistica quello che fa da freno è proprio il non riuscire a lasciare le storie piccine le storie piccine sono anche le stupide storie d'amore le stupide storie d'amore appiccicaticce i drammi d'amore quelle finte affettività quelle finte sicurezze così misere così intristenti così intristenti ma noi preferiamo continuare a rimanerci dentro e nello stesso tempo lasciando tutto così immutato praticare la via spirituale che è una via di trasformazione ed è una via in cui ciò che è inutile rende impossibile connettersi col senso profondo di sé il ciarpame della nostra vita deve essere buttato nella discarica ma molti non lo vogliono fare non si può servire Dio e Satana si legge e continua in questa lettera a Clarie ecco una cosa importante da dirti se lasci fare al tuo essere interiore sarà lui a toglierti di dosso tutte queste grossolanità esteriori non ti si chiede di fare da sola nessuno riesce a farlo davvero tranne qualche raro atleta della morale e del resto sono risultati sempre piuttosto precari ti si chiede di lasciar fare questa è una lezione di surrender che dà Satpen dell'affidarsi al divino del sia fatta la tua volontà è l'essere interiore che ha il vero potere lui sa fare benissimo il suo lavoro ma se fin dall'inizio dici io non posso erigi una barriera nella tua coscienza sbarri la porta non bisogna non bisogna concentrarsi sui propri difetti o sulle proprie incapacità ne abbiamo a Iose ma sul meraviglioso che è in noi e che lui si ha tutte le capacità bisogna vivere costantemente con la convinzione interiore che tutto è possibile se no uno si reclude e ti assicuro che tutto il cosiddetto fascino delle emozioni esteriori si sbriciola da solo una volta che cominci ad entrare in contatto col tuo essere vero tutto diventa di un fascino supremo e ti accorgi di avere perso un mucchio di tempo la connessione con l'anima produce un'intensità così grande che tutte le emozioni più banali si ridimensionano quelle che sembravano lo scopo della nostra vita e anche i conseguimenti certi ideali certi amori la stessa sessualità acquista una dimensione completamente differente si assapora altro e c'è questo questo affidarsi al divino che però state attenti non vuol dire che noi restiamo passivi il surrender non è passività noi dobbiamo metterci comunque il nostro intento la nostra aspirazione anche la nostra disciplina magari facendo un centesimo mettendoci quel centesimo che però crea la connessione aiutati che Dio ti aiuta dice un detto popolare e quindi c'è comunque una nostra adesione e senza di essa non si va da nessuna parte continuo a cercare in questo libro pieno di tesori che comunque bisogna leggere tutto con calma in una lettera sempre a Clary siamo nel 9 aprile 61 Satprem dice la coscienza è diventata per me una sostanza assolutamente viva proprio lo mette in corsivo sostanza qualcosa di reale solido non è un concetto la coscienza è una esperienza concreta ecco anche perché percepisco meglio quel che succede negli altri dato che ovviamente questa sostanza non è proprietà personale di nessuno separata da quella degli altri e dà per tutto la stessa sostanza e quindi anche la tua occorre aprirsi ad un'altra forza dentro di noi solo quella può farci fare tutti i cambiamenti necessari un'altra lettera a Clarie amica da quando ti ho scritto la mia ultima lettera ho pensato spesso a te dicendomi che sono un amico insopportabile di una rigidità quasi altrettanto intollerante di quella dei miei amici cattolici devi perdonarmi sono in uno stato di battaglia non di realizzazione più la battaglia prosegue più diventa spietata e crudele vengo scrollato colpito martellato la resistenza è accanita perché la luce fa male voglio sottolineare questa frase la luce fa male perché la luce mette in evidenza tutto quello che non vorremmo vedere i bassi fondi i nostri bassi fondi ma questa non è evidentemente una buona ragione per pretendere che gli altri si buttino nella medesima battaglia né per credere che la strada sia necessariamente impervia non tutti sono coriacei quanto me né per rimproverare agli altri direttamente o indirettamente di non seguire la medesima strada nel mio stato battagliero tendo a dimenticare queste cose più che elementari ovviamente ognuno fa quel che può con i materiali che ha a disposizione ognuno è destinato al proprio compimento suo e soltanto suo beh Satprem diventa a volte molto intransigente quindi è stato con Clarì molto duro l'ha criticata le ha dato quella scrollata come ha scritto nella lettera che vi ho letto precedentemente però si pente si rende conto che non può pretendere che tutti siano come lui e in una lettera del 16 giugno a Bernardo Onsie Emanec che è sua moglie dice i Veda parlano di continuo del mondo solare della nascita solare in noi di varcare le porte solari interessantissimo quel che mi preoccupa un po' però è la messa in pratica mi chiedo se abbia la capacità di trarre dalla sua esperienza una disciplina pratica valida per altri no? parla di una persona no? che si G J B che in occidente passa per un maestro quindi Bernardo Onsie dice a Satprem che ha incontrato questo maestro è rimasto affascinato e come al solito Satprem va cauto dubita anche perché ha avuto è stato tradito dal suo maestro poi rivolgendosi a Manek dice sai Manek e Bernard in fondo c'è un'unica cosa da fare quando si è in difficoltà o nel dubbio far tacere la mente mettersi ad ascoltare dentro tranquillamente con pagatezza e chiamare 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 la forza chiamare il divino potremmo dire chiamare lo spirito santo per usare per usare un linguaggio cristiano finisce sempre per venire una risposta perché dentro di noi abbiamo qualcosa di simile a un'anima io conosco un solo luogo santo quello dentro di noi il paradiso è dentro di noi siamo nel 1962 sempre una lettera a Manek e Bernard Donzie Sri Aurobindo aveva predetto in certe carte inedite che nel 1967 quella che lui chiama la forza supermentale sarebbe entrata in una fase di realizzazione attiva fino a quel momento le cose possono ribaltarsi da una parte e dall'altra ma al contrario di te non mi aspetto niente dai cattolici a meno che non cessino di essere cattolici tutta la loro chiesa con tutti i suoi dogmi tutto il loro catechismo si basa infatti proprio sulla negazione di un mondo nuovo non credono che nell'aldilà beh c'è la critica al cattolicesimo così diverso da quello che dovrebbe essere l'insegnamento di Cristo è evidente è evidente questo incartapecorimento del messaggio cristiano nel cattolicesimo un'altra lettera a Clary amica il mio silenzio è vergognoso ti chiedo di perdonarvi da quasi sei mesi mi trovo in un periodo di transizione che somiglia un po' ad una terra di nessuno sicché oscillo di continuo fra due stati da un lato la completa illusorietà del mondo dall'altro la verità del mondo una verità altra da nascere ora una fede assoluta ora una disperazione totale non è neanche esatto dire che oscillo fra due stati perché i due stati coesistono sono simultanei beh continua Satprem nel suo strazio interiore ma credo proprio perché dentro di lui ci sono memorie molto antiche ricordiamoci che Satprem si è suicidato in tre incarnazioni e sono certo che tutto questo abbia portato in lui un fardello carmico grandissimo da affrontare e anche nell'incontro con i maestri c'è questo fardello carmico in una lettera ancora a Manec e Bernardo Onsie dell'otto giugno scrive ho rotto i rapporti col mio guru tantrico decisamente non ho fortuna coi miei guru ma stavolta è stato spaventoso e terribile era da quattro anni che lavoravo con lui sicché adesso si è aperto un vuoto orrendo e ho avuto una quantità di contraccolpi la cosa più triste è che per lui avevo e continuo ad avere un affetto profondo e quindi mi ritrovo più vulnerabile mer che mi ha piuttosto spinto a questa rottura mi dice che nessuna parte è l'inizio di qualcosa perché saprei mi dice io non mi sento da nessuna parte ecco tabula rasa quando si perde tutto è lì il momento in cui può nascere tutto il vittimismo mi fa orrore ma si dà il caso che io sia stato vittima di una banda di ricastri ashramiti che da due anni facevano l'assedio al mio guru individui che credono di poter permettersi tutto semplicemente perché hanno i soldi gente capace di ogni bassezza hanno fatto e detto cose ripugnanti per farmi fuori perché sono un occidentale insomma tutto questo è così sordido avevo visto cos'è la crudeltà umana fare il male per il puro piacere di farlo ma non conoscevo cos'è la meschinità beh è molto peggio non so se stia più in basso uno della Gestapo o questi impostori spirituali suggiata nella sua saggezza mi diceva che è la stessa cosa la meschinità è semplicemente una crudeltà priva di forza ho un vuoto di memoria un buco nella mia coscienza un esso mancante so che è lì questo essere ma sta da un'altra parte il vero me so che è lì non lo trovo non c'è collegamento con quel me che so è davvero me che da trent'anni mi ossessiona e mi martella dentro trascinandomi in giro per il mondo sai io non sono il discepolo in cerca di realizzazione iogica non sono uno che si forza di fare progressi no e poi no quella realizzazione l'ho avuta già quella visione l'ho avuta già ho avuto già quella conoscenza e quel potere e adesso tutto resta tagliato fuori sono tagliato fuori ma c'è qualcosa o qualcuno in me che si ricorda un ricordo che fa male che mi martella e rimartella dentro un esilio immane Mer dice che c'è un perché in questo vuoto di memoria della mia coscienza dice che sto rinchiuso dentro una statua di vetro molto chiara e trasparente è madura come cristallo di rocca quando si spaccherà sarà un bene può darsi che il mio handicap sia collegato a certe infernali vite anteriori a un suicidio ripetuto per tre volte ecco ne è consapevole sapremo e qua c'è la nota la nota di grande potente tenerezza amorevole e poi c'è sugiata continua in questa lettera l'aiuto della sua presenza dolcissima simile a un fiume che scorre tranquillo purtroppo però quando mi prende una delle mie crisi la mando a quel paese con una brutalità vergognosa solo un'indiana può essere capace di amare a quel modo con tanta abnegazione e con tanta modestia a volte mi prende l'angoscia che la prova consista nel perderla di nuovo come l'aveva persa nelle tre incarnazioni in cui sugiata o perlomeno l'anima che aveva preso forma in altre forme di sugiata aveva aveva vissuto l'esperienza del suicidio anch'essa quindi sapreme diciamo così in maniera banale proprio infantile si è suicidato tre volte nelle precedenti incarnazioni ma anche sugiata si è suicidata tre volte è questo è questo il terribile niente mai allo stato puro né puramente buono né puramente cattivo quindi anche sugiata che è il suo rifugio però nello stesso tempo ancora non riesce ad accoglierla totalmente ancora combatte ma l'amore vincerà totalmente sugiata è la sua Shakti e Sat Prem se ne renderà conto sempre di più vi lascio augurandovi come sempre ogni bene grazie grazie grazie